e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su GTA 5 online oggi siamo in un nuovo LPS che è stato creato da Leo Bardellis e oggi siamo in attività eccoci qua con Porkmots Erzuinos andiamo raga un LPS con le auto nuove ho letto in descrizione e dobbiamo cercare di arrivare alle urni... faltava è già sfiorato ragazzi che ha fatto il suino? È rimasto a piedi andiamo via la nostra bici andiamo 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 vedete non c'è nessuno ok andiamo oh no c'era uno però non mi è venuto addosso all'altro c'era qualcuno che vuole scittare sti scittoni maledetti ok ok raga mi ha sfiorato uno ma come vogliono scittare veloce che si eccitano oh no 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 Francesco tu non citi Francesco tu non citi oh Francesco voleva citare Francescone ma sono rimasto solo io andiamo al carro armato prendiamo il carro armato e andiamo a distruggere tutto dove stanno? eccolo al volo al volo o c'è un altro qua? dov'è? ah vogliono citare porchita lì non si citta allora ce n'è rimasto uno ancora dobbiamo usare la tecnica tecnica del nascosto al radar se no stanno sopra e poi un casino non scegliono più vedono il carro armato è quello che scende eh si è una scuola eh vabbè raga la tecnica funziona sempre c'è qualcun altro? no madre mia chillato tutti chillato tutti raga round vincitore andiamo a farci un altro round andiamo a fare un altro round andiamo a fare un altro round comunque raga importantissimo attivate la campanellina per non perdervi nessun video allora e lasciate un bel like mi raccomando raga che non costa niente è gratis allora vediamo se ci spawna il gioco questo secondo round ok adesso abbiamo le auto prendiamo che colore la prendiamo raga vediamo un po c'è arancione arancione dai vediamo questa qua arancione cerchiamo di chillare qualcuno perché prima abbiamo fatto un round stupendo e ora vorrei replicchiare raga eh non è scritto ma non cadde giù ehi 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 chi sei distrutto Reus, molto bene, è rimasto solo uno eccolo lì, madonna se c'è la pestolina ebbe, te faccio vedere io no adesso faccio risalire, l'ha fatta un po' alta il nostro amico Leo Bardellis eccolo la, eccolo la, fermo, c'è il suino lì porchita, ma che sfortuna, no regga questa è sfortuna nera questa è sfortuna allora risaliamo, dobbiamo cercare di prenderlo è la fermo, che stanno a fare è la, dove sta il suino? stavo per failare, stavo per prender il suino eccolo, eccolo, oh porchi itali, dove scappi? cosa? oh porchi itali facciamo un bel potere, dai sui un bel potere del suino grande porchi itali e ora, però, dobbiamo fare il gioco oh no 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 no, eh ma non può salire porchi itali, ne va a fare un giretto? no sui, sta a fare il potere niente regà, mi spiace sui, ma dobbiamo finire sto round dobbiamo finire, oh non muore, sui, c'è la pelle de feru oh no, non vuole morire ok, dai vinto anche questo round altro round vincitore niente regà, dai, chiudiamo qua il video spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti bei like, iscrivetevi al canale attivate la campanellina e noi come sempre ci picchiamo al prossimo video bella regà